Partiamo col definire il termine santo. Intanto il termine santo vuol dire separato. Chi è santo è separato. Da che cosa? Dal mondo, dal male, dal peccato, dall'ingiustizia, dalla violenza eccetera eccetera. Quindi è un individuo che si separa in un certo senso dal mondo pur restando nel mondo. In greco è Agios, in ebraico Kadosh, tutti quanti hanno lo stesso significato, lo stesso senso di separazione dal male. San Paolo nelle sue lettere saluta i santi. Chi sono i santi? Erano i battezzati, quelli che lui stesso aveva battezzato e grazie al battesimo diventano santi, cioè si separano dal mondo. Ovviamente non è la santità nostra quella la canonizzazione, però è un modo per dire siete separati, non comportatevi più come i pagani perché avete avuto il battesimo, ma questo vi ha separato dal male e dal peccato. La santità è una specie di anticipo di Dio che è il santo per eccellenza. Santo, santo, santo eccetera. Lo diciamo nella messa, è il santo per eccellenza, è il santo di tutti. Anche Gesù, essendo figlio di Dio, è il santo per eccellenza. E se vi ricordate anche il demonio lo riconosce e ne ha paura. E dice il demonio, chi sei tu? Io so chi sei, sei il santo di Dio, sei venuto per rovinarci. Il demonio parla al plurale perché sono tanti di spiriti impuri. Quindi anche il demonio riconosce la santità di Gesù, è costretto a riconoscerla e ne ha paura, la teme. Quindi questa è un'informazione importante. La santità fa paura al demonio. Quindi sforziamoci tutti i modi di camminare sulla via della santità per far paura al nemico. Tecnicamente la santità, secondo le norme della Chiesa, è vivere in grado eroico le virtù cristiane. Ci sono vari tipi di santità. Per esempio il martirio. Uno muore martire per Cristo e quello automaticamente diventa santo. Se è riconosciuto il martirio non ci sono problemi. Poteva essere magari anche la persona peggiore del mondo, però se muore martire per Cristo e ci sono le prove, viene dichiarato santo. Un altro segno di santità sono i miracoli. Chi fa i miracoli già in questo mondo, per esempio Padre Pio, sapete, o Madre Teresa, questi sono santi, in virtù dei loro miracoli, perché il miracolo si sa è un segno di divinizazione. Solo Dio fa i miracoli tramite gli esseri umani. Santità può essere questo, cioè il martirio, può essere il miracolo, però può essere anche la vita normale vissuta in grado eroico. Per esempio, prendiamo Chiara Luce Badano, è una santina morta giovane, aveva 15 anni, poco più, non ha fatto cose eccese, non ha fatto grandi imprese, ha vissuto semplicemente la sua vita normale di ragazzina improntata alla santità. Quindi pensava soprattutto ai bimbi poveri, ai bimbi affamati, cercava di precare il sollievo agli altri come poteva, quindi la Chiesa l'ha dichiarata beata e poi tra un po' anche santa. E così anche Carlo Acutis, anche lui è morto giovanissimo, ragazzino adolescente, ripeteva spesso non io ma Dio, tutte le cose che faceva, le faceva per Dio, non per se stesso, per apparire, per mettersi in prima fila, in prima linea. Ecco questi sono esempi odierni in santità, fermo restando che, tra tutte le creature umane, la più santa è Maria, infatti si parla di Maria Santissima, della Divina Maria addirittura. Perché? Perché pur essendo una creatura umana, nata da donna, Maria segue in tutto e per tutto gli attributi del Figlio, che è il Santo per eccellenza, il Santo di Dio. Quindi se Gesù è santo, anche Maria è santa. Quindi, vedete, guardiamo Maria per avere un esempio umano di santità, di perfezione umana. È il nostro cammino. Saremo santi, diciamo, un giorno perché vedremo Dio, speriamo. Però intanto incamminiamoci su questa strada di santità, di giustizia, di verità, di bontà, di carità. Una parola sulle letture. La prima lettura parla di famosi 144.000, l'apocalisse. Qualcuno diceva, che brano strano questo qua, 144.000, i salvati, quelli di fronte all'agnello, vestiti di bianco, solo 144.000? Qual è possibile? Allora, bisogna stare attenti perché spesso il Nuovo Testamento usa dei singoli per farci capire qualcosa. 144 è esattamente 12 per 12. 12 è un numero molto particolare, il Nuovo Testamento. Ricordate i 12 apostoli, 12 tribù di Israele e via dicendo. 12 mesi dell'anno. Quindi si trova un po' dappertutto. Ed è questo che vuol direci la lettura. 12 tribù, 12 apostoli, cioè l'umanità intera, 12, è salvata per 12 mesi, cioè tutto l'anno, tutto il tempo, per mille, quindi l'eternità. Quindi questo 144.000 vuol dire che tutti quanti, tutti gli esseri umani, sono chiamati in ogni tempo a vivere la santità, a diventare santi. Sono chiamati poi da noi, ovviamente aderire o meno a questo richiamo. Il primo dice, no, non mi interessa, dire da santo, vivo come mi pare. Allora no, è chiaro che qualcosa non va. Però se rispondiamo con debolezze, con errori, con peccati, eccetera, a questa chiamata di santità, è probabile che lo diventeremo, anzi. È certo. Nel Vangelo Gesù parla delle beatitudini. Ricordiamo che sono vari gradi di santità, cioè il Venerabile, il Servo di Dio, il Deato, il Santo, su tutti i gradi che la Chiesa riconosce per le persone dichiarate in concetto di santità. La beatitudine qui parla di beati, povri, beati quelli che soffrono, io dicendo, gli affamati, gli asserati di giustizia. Non dice saranno beati un giorno. Sono beati adesso. Già quando Gesù parlava di queste persone che soffrono, sono già beati, sono già nella luce di Dio. Quindi ecco, ogni qualvolta viviamo a situazioni difficili o addirittura impossibili, che sembrano troppo grandi per noi, noi esattamente stiamo camminando sulla via della santità. Percorriamo questa via difficile, magari a volte sgradevole, a volte pesante da percorrere, però facciamo esattamente quello. Ci santifichiamo. Bene, allora chiudiamo questa riflessione augurando una buona solennità. oggi è solennità dei santi e auguri una santità in questa terra e poi quella divina davanti al volto di Dio. Siava Gesù Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti